Buongiorno a tutti, eccoci alla seconda video lezione per la costruzione della nostra fattura con Excel. Ci siamo lasciati dopo la prima lezione con un'impostazione di massima della nostra fattura, con delle parti già abbastanza chiare di dove andranno le intestazioni della mia dita, quindi vedremo mettere un logo, le informazioni del destinatario della mia fattura, il corpo poi della fattura dove andremo a mettere praticamente tutta la parte di prodotti e una conclusione, un fondo, diciamo il fondo della fattura dove ci sono un po' i risultati, quindi i totali che ci servono. La lezione di oggi, questa video lezione vorrei improntarla sulla parte relativa alle informazioni sul destinatario, quindi diciamo questa parte che va dalla riga 5 alla riga 9. e vorrei cercare in qualche modo di caricare in maniera automatica tutte le informazioni del destinatario della fattura, magari da un altro foglio di Excel. Quindi iniziamo subito, diamo un nome a questo foglio, questo sarà il foglio della mia fattura, quindi doppio clic sull'interstazione e diamo un nome, col più aggiungiamo un nuovo foglio, questo lo chiamiamo ad esempio clienti, dove qua metteremo praticamente tutte le informazioni relative ai clienti. Allora, iniziamo a capire come organizzare i dati qua nel foglio clienti, quindi immaginiamo ad esempio che il cliente abbia una denominazione, nel caso ad esempio di una ditta, se invece è una persona fisica metteremo, che so, cognome e nome, ok? Poi mettiamo praticamente la residenza, quindi in che via siamo, mettiamo ad esempio il numero civico, perché vi ricordo abbiamo lasciato, torniamo un attimo alla fattura, abbiamo lasciato il campo qua per mettere appunto il numero civico, dopodiché possiamo aggiungere un cap, quindi tra di tutto la città che d'altro mi sono dimenticato, ma evidentemente qua dovremmo in qualche modo sistemare anche la città, che è più importante praticamente dell'indirizzo, quindi mettiamo la città, mettiamo poi il codice avviamento postale, il cap, mettiamo la provincia in cui la città è presente, mettiamo ad esempio un contatto telefonico, potremmo mettere telefono, possiamo mettere una mail, qualsiasi altra informazione del mio cliente, ovviamente a noi interessano quelle che poi dovranno comparire in fattura, e poi è importantissimo mettere anche la partita IVA del mio cliente. Allora qua mettiamo un po' di nomi, quindi mettiamo... Diciamo che abbiamo riempito il nostro foglio con tutte le informazioni dei clienti, Allora, prima cosa che ci può servire, iniziamo a dare un'etichetta a tutta questa tabella, anche se in realtà non è una tabella. Togliamo fuori magari l'intestazione e supponiamo di lasciare anche delle righe vuote, considerando il fatto che posso aggiungere ovviamente dei clienti, quindi adesso non vogliamo riempirci il foglio scrivendo cose che non hanno senso, però sto supponendo ad esempio di caricare i clienti che vanno dalla riga 2 alla riga 21. Come faccio a dare un nome, un'etichetta a questa selezione? Beh, vado qua nel foglio del nome e ad esempio qua la chiamerò clienti. Quindi tutte le volte che io sono in giro per il foglio, o anche gli altri fogli, e vado qua nella casella del nome e scrivo clienti, vedete che automaticamente lui mi richiama la selezione che ho fatto. Quindi io posso riferirmi, adesso vedremo in altre parti del mio... come si chiama, del mio foglio di lavoro, e richiamare appunto questo insieme di dati. Allora, iniziamo a capire qua come faccio a selezionare un destinatario. La cosa più semplice da fare qua è far comparire un menu a tendina che si va a richiamare direttamente l'elenco dei clienti, ovviamente sul campo denominazione, quindi praticamente la colonna A. Ok, quindi qua nella fattura dico dalla cartella dati, con valida dati, dico che qua, in questa cella, che è in nostro caso la F5, come li ho accorpate, non prendo un qualsiasi valore, ma prendo un elenco, la cui origine, quindi vado a far lampeggiare il cursore qua, vedete il puntatore dove sta indicando il cursore che lampeggia, a questo punto vado su clienti e seleziono un certo numero di clienti, adesso non mi ricordo se fosse arrivato alla riga 21, ok? Quindi anche delle righe vuote. Come diamo ok, vedete che ci compare il simbolo praticamente del menu a tendina e qua ci compaiono praticamente i nomi di tutti i nostri clienti, ok? In testa talia dove andrò a richiedere i soldi della mia fattura. Bene, a questo punto una volta che io ho Rossi Lucca, che vi ricordo deve essere il primo nome, perché adesso cercheremo di fare il popolamento praticamente di questa fattura in automatico, utilizzando la funzione Cerca Verticale, devo riferirmi praticamente nella ricerca, quindi questo è il campo di selezione che userò per riempire gli altri, deve trovarsi obbligatoriamente nella prima colonna della tabella. Quindi andiamo a cercare ad esempio l'indirizzo. L'indirizzo come lo trovo? Beh, abbiamo detto uso la funzione Cerca.vert, quindi andiamo a impostare la funzione Cerca.vert. Cosa fa questa funzione? Ci restituisce un valore in base ai parametri che io vado a indicare. Il valore che vado a cercare per poi avere una restituzione, quale sarà? Beh, è quello che scrivo nella cella F5, quindi dove ho selezionato il nome della persona. Punto e virgola. Dove vado a cercare l'elemento che mi serve? Nella matrice tabella, ma la matrice tabella è quella che abbiamo messo in clienti e l'abbiamo chiamata clienti con l'etichetta, quindi vado a prendere l'etichetta clienti. Vedete che Excel ce la riconosce subito, quindi col tasto Tab dico ok, vai a cercarla su clienti. Cosa vuoi tirar fuori? L'indice. L'indice cosa rappresenta? Rappresenta il numero della colonna. Quindi adesso per uscire dalla formula semplicemente qua faccio uno spazio, ok, e andiamo a ricordarci come era fatta la tabella clienti. Beh, in questo caso quindi sto chiedendo l'indirizzo, quindi l'indirizzo sarà la via, quindi ad esempio è la colonna, questa è la colonna 1 di partenza, questa è la colonna 2, quindi nella mia fattura, togliamo adesso lo spazio qua che non ci serve più, vuol dire che devo restituirmi il valore 2. Punto e virgola. Cosa vuole qua? Corrispondenza esatta o corrispondenza approssimata? Noi mettiamo una corrispondenza esatta, quindi mettiamo falso o 0. Chiudo la parentistonda, controllo l'invio e vedete che lui mi sta restituendo Torino. Ovviamente Torino è l'indirizzo, quindi possiamo fare così, siccome qua ho due celle, facciamo questa cosa qua, tolgo l'unione delle celle, questa formula la trasferisco qua a fianco, e qua ci scrivo via, e lo lascio definitivo, copio il formato un attimo, ok, quindi via Torino. Via potrei allinearlo un attimo a destra, ok, così si vede meglio. Qua cosa serve? Serve il numero civico, ma il numero civico da dove lo prendo? Dalla tabella clienti. Vedete che se prendevo la Via dal numero 2, il numero civico lo prendo come colonna numero 3. Quindi, cosa importante da fare? Mi vado a prendere la formula che ho scritto precedentemente, CTRL-C me la sto copiando, ESC, vado qua, uguale, CTRL-V, e prima di dare invio dico, guarda che non mi serve la colonna 2, ma mi serve la colonna 3 del mio cerca verticale. Come do invio, mi restituisce il numero civico 33. Ok. Quello che invece vi manca nella fattura, come dicevamo prima, è in effetti la città. Quindi, sotto l'indirizzo, dove c'è il CAP, posso pensare di aggiungere praticamente la città insieme alla provincia. Quindi, questo CAP al momento, mettiamocelo un attimo qua giù, e qua mettiamo città, che direi che è più importante. Ovviamente prendo lo stesso formato che avevo prima. Ok. Ho ancora in memoria, no, non ho più in memoria adesso, vediamo un po', uguale, CTRL-V, perché ho trascinato una cella, quindi si è preso già da parte in memoria. Quindi, ritorno ad esempio, dove ho scritto il cerca verticale, CTRL-C, ESC, vado dove c'è la città, la città in che colonna si trova, quindi 1, 2, 3, quarta colonna, quindi la città avrà uguale, scusate, uguale, CTRL-V, colonna 4, e qua mi restituisce la città che è Firenze. La provincia, la provincia sarà, quindi era 4, 5, 6, vedete questi sono invertiti, quindi 6 sarà la nostra provincia, perfetto, quindi qua un, uguale, CTRL-V, e prendiamo invece della colonna 3, la colonna 6, quindi provincia di Firenze, il CAP, finalmente siamo arrivati, faccio uguale, CTRL-V, e invece del 6 sarà il mio 5, stessa cosa per quello che riguarda il telefono, quindi il telefono lo posso aggiungere qua a fianco, telefono, ok, e qua faccio un uguale, CTRL-V, e qua mi prendo ad esempio la colonna 7, vedete che si è allargata automaticamente, ora posso inserire la partita IV, uguale, CTRL-V, e questa sarà invece la colonna 8 della mia matrice, ok, no, non mi sembra giusta questa partita IV, mi sembra un po' piccolina, andiamo a verificarlo, stiamo parlando di Rossi-Luca, Rossi-Luca, ha la partita IV che è piccolina, facciamola crescere un attimo, mettiamoci un altro paio, non so quanti numeri ci vogliono, ok, ce l'ha aggiornata in automatico, bene, abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto una compilazione automatica in base alla selezione che sto facendo del mio cliente, quindi quando io seleziono qua dal menu a tendina Bianco Luigi piuttosto che Ciccio Formaggio, vedete che tutti i dati vengono fuori all'interno praticamente della zona della fattura, per quanto riguarda il numero di fattura, questo dovremmo metterlo a mano perché noi non abbiamo un conteggio delle fatture, per quanto riguarda la data possiamo semplicemente usare la funzione oggi aperta e chiusa a tonda contro l'invio che ci dà ad esempio la data di oggi, così come il riferimento ordine sarà un campo da inserire manualmente. Cerchiamo a questo punto di dare una rappresentazione anche grafica un po' migliore, quindi posso pensare ad esempio qua a tasto destro di inserire una colonna, di una riga, la facciamo un po' sottile e questa riga ad esempio la manteniamo di colore bianco, per staccare dal resto, così come possiamo fare che la partita IVA, quindi tasto destro inserisci, abbia una colonna un po' più sottile e qua sia ad esempio ancora di sfondo bianco, al contrario le altre informazioni, queste altre informazioni io le vorrei cambiare un attimo come colore, così vediamo anche la parte che abbiamo già fatto, quindi posso prendere un colore, andiamo ad altri colori, un colore un po' più, ecco, sì, facciamo così, e facciamo anche gli altri diciamo dello stesso colore, così come la partita IVA dello stesso colore, è buona norma quando facciamo cose di questo tipo, evidenziare i campi che invece devono essere inseriti rispetto a quelli che vengono calcolati in automatico, quindi ad esempio dove c'è ciccio formaggio io faccio la selezione, allora questo mettiamolo per comodità, poi sarà magari bruttissimo da vedere, lo mettiamo un po' più scuro, ora diamo ancora una parvenza un attimo decente, allora facciamo così, prima io le seleziono tutte e togliamo i bordi su tutti, nessun bordo, dopodiché queste qua posso mettere solo i bordi esterni, così come qua mettiamo i bordi esterni, e anche qua mettiamo i bordi esterni, quindi in modo tale da raggruppare un attimo le informazioni, questo non era però il colore che volevo, quindi questo qua un bel copia formato, e ce lo spalmiamo qua, ok? Quindi qua invece non ho tolto tutti i bordi, quindi prima facciamo nessun bordo, e poi mettiamo i bordi esterni, ok? Quindi ancora qua posso pulire, mettere un colore ad esempio bianco, così come questa parte la posso mettere bianca, separiamo queste informazioni ancora col bianco, e via. Quindi anche qua mettiamo bianco, per evitare quelle righe, anche se ci sono righe di costruzione, ci dà almeno un'idea di quello che sta, quello che stiamo evidenziando nella nostra fattura. Ok, quindi abbiamo visto in maniera molto molto semplice che con la cerca verticale noi riusciamo a popolare praticamente da un menu dei clienti che c'è già qua presente, la parte di intestazione della fattura. Direi che per questa seconda video lezione ci possiamo lasciare qua, vediamo magari la prossima volta di mettere un menu a discesa intelligente, dove magari vediamo di mettere l'iniziale di un cognome, e lui ci fa vedere tutte le persone con lo stesso cognome, però lo vediamo già nella terza video lezione. Per il momento è tutto, a presto allora. Ciao ciao!